Mi chiamo Giulia Polti, ho 30 anni e mi sono laureata in questo corso di laurea a dicembre del 2015. Ad oggi mi occupo di normativa del lavoro e contrattazione collettiva nell'ambito delle relazioni industriali in Enel. Per quanto riguarda la preparazione accademica che mi ha fornito questo corso di laurea, sicuramente ha contribuito a darmi delle solide basi da cui partire. Perché accanto alla formazione specialistica legata strettamente alle materie in cui oggi lavoro, ci sono anche delle solide conoscenze avanzate nell'ambito più economico, microeconomia, macroeconomia, analisi statistica, organizzazione aziendale. Ritengo che chiunque debba entrare nel mondo del lavoro ad oggi abbia bisogno di un profilo che sia specialistico ma abbia anche dei contenuti multidisciplinari. Quindi puntare ad un'ampiezza di competenze anche nell'ambito di una specializzazione. Mi piace essere testimone diretta di questa cosa perché questo corso di laurea offre tantissime occasioni di aggiornamento, seminari, conveni, alla presenza di accademici, professionisti, rappresentanti politici, quali istituzionali. E questa è un'importantissima occasione, come dicevo, sia per chi lavora in questo ambito che per chi studia queste materie. Perché è importantissimo avere, spesso accade che la realtà, la cronaca superi quello che c'è scritto nei manuali. Quindi è importante essere costantemente aggiornati e soprattutto avere gli strumenti per interpretare il presente, per prendere delle decisioni, per capire il contesto in cui si vive. E poi sono proprio testimone oculare anche del sostegno agli studenti, agli laureati nell'ingresso del mondo del lavoro. Io dopo la laurea ho vinto un concorso, organizzato proprio dal corso di laurea, per le migliori tesi in ambito sindacale e dislavorista. E in Paglio c'era uno stagio aziendale, quindi effettivamente il mio primo ingresso proficuo nel mondo del lavoro è stato grazie a questo corso di laurea.